salve sono marcello di abc strategie e oggi parleremo di business intelligence marcello cos'è la business intelligence oggi si parla molto spesso di raccogliere dati riferiti a clienti prodotti molte aziende si preoccupano proprio della fase di raccolta dati questo ha generato negli ultimi anni una spropositata direi raccolta dati da parte di tutte le aziende e questi dati spesso si ritrovano sparsi un po dappertutto all'interno dell'azienda più banalmente il posto dove si possono trovare dati è intanto il software gestionale che ogni azienda normalmente ha ma oltre a questi potrebbero esserci anche dei database creati ad hoc così come dei semplici fogli excel così anche come l'industria 4.0 che in quest'ultimo periodo si sta sviluppando genera sempre di più dati da mettere a disposizione appunto dell'azienda uno dei paragoni che io utilizzo sempre per spiegare cos'è un sistema di business intelligence è fare un paragono un po con la scia americana con la central intelligence agency lo scopo della scia è proprio quello di intanto recuperare dati che a volte sembrano nascosti segreti e metterli in luce per ottenere dei risultati che altrimenti non si avrebbero il sistema di business intelligence lo potremmo quasi paragonare alla scia dell'azienda quindi è un sistema che appunto raccoglie tutti questi dati che sono appunto sparsi su diverse fonti in azienda e li mette e li elabora li mette insieme e li elabora proprio per dare modo all'azienda di poterli analizzare qual è lo scopo della business intelligence sì lo scopo della business intelligence è appunto mettere a fattor comune tutti i dati presenti in azienda che si trovano come dicevamo in più fonti una volta messi assieme naturalmente il software di business intelligence ha lo scopo di sintetizzarli perché se è vero che abbiamo tanti dati il nostro obiettivo deve essere quello di ridurli in indici sintetici questa riduzione naturalmente a volte genera una prospettiva diversa guardando lo stesso dato attraverso un sistema di business intelligence e infatti grazie a questi si possono creare sia indici di performance da monitorare sia sistemi di controllo di gestione ma anche fare delle previsioni e cogliere delle opportunità oppure rilevare delle criticità marcello cosa serve per implementare un sistema di business intelligence allora l'elemento essenziale per l'implementazione sono i dati e quelli abbiamo detto che nelle aziende ce ne sono e ce ne sono veramente tanti l'altra cosa che invece serve appunto il sistema il software il software che noi utilizziamo in abc è click sense che è uno dei più potenti esistenti al mondo e l'altra componente fondamentale che noi aggiungiamo è tutto quello che riguarda la progettazione la realizzazione quindi delle dashboard e inoltre la formazione e poi l'assistenza e il miglioramento di questi cruscotti man mano che si usano nel tempo e l'abbiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.